In questo momento il capitano della Rocca, oggi seconda partita di andata, ce la vuoi raccontare? Una partita che è inzata male, potevamo essere più concentrati, ma lo sono passato subito in vantaggio, poi però nel secondo tempo siamo venuti fuori e l'abbiamo portato a casa. Senti, ma nel primo tempo cos'è? Eravate così spenti a causa della serata di ieri sera? Era una serie di cose, tra la serata di ieri e comunque abbiamo presa sotto gamba, però secondo tempo, ripeto, abbiamo fatto un po' il carattere e abbiamo voluto a casa e anche stavolta. Beh ragazzi, allora in bocca al gruppo e la prossima si finirà a quattro. Siamo qua, Rinaldo, stai su, guarda, la prossima, braccio, braccio, braccio. Allora in bocca al gruppo, ciao ragazzi.